Accanto a me il candidato sindaco Gianvito Greco che insieme ai candidati in giro per Campobello per vedere qual è la situazione dello Stato, no? Ma iniziamo a percorrere il paese che già conosciamo, l'abbiamo percorso per tanti anni e sono posti dove io personalmente con tanti di loro siamo stati proprio per valorizzarli questi posti. Il 6 gennaio l'anno scorso ricordo tutta Campobello era qui a festeggiare la fine delle feste di Natale, tantissima gente accorsa in questo posto che è un posto storico, se lei si accorge guardiamo tutto il paese da qui, quindi gli occhi puntati su tutto il paese, sono momenti di ritrovo, momenti di incontro, momenti dove la passione e l'entusiasmo contagiano anche chi sta a casa, anche perché toccheremo tutti i punti del paese, andremo in piazza Fiera delle Remite, andremo a incontrare Erbe Bianche, Torretta, Tre Fontane, piazza Palo Borsellino, piazza Nino Buffa, andremo a Rocca del Gallo, andremo con la nostra passione e con la nostra voglia non soltanto di vincere queste elezioni, di cambiare questo paese. C'è tanta gente oggi che ce lo chiede, c'è tanta gente che oggi ha questa grande voglia di poter realizzare questo grande sogno che veramente da 30 anni inseguiamo tutti, io ne ho 39, mi ricordo che ero piccolino e ancora oggi questo paese non solo non è migliorato ma è peggiorato tantissimo rispetto a 30 anni fa, 30 anni fa forse c'era tanta vita, c'era un cineteatro, c'erano tanti negozi aperti, c'era l'economia che girava, oggi tutto questo non c'è più. Una cosa simbolica che ti annuncio dal momento che io sono eletto sindaco l'orologio inizierà a scocchiare di nuovo come tempo fa, un orologio in pieno stato e degrato che dava i segnali al paese che la vita di Campobello è in movimento, che la vita c'è, che si riprende di nuovo a vivere in maniera dignitosa, in maniera serena, in maniera armonica la relazione sociale tra di noi. Oggi questa si è persa e noi oggi vogliamo ripartire da lì, dall'unione, vedi oggi l'entusiasmo della gente che si ritrova per dirsi cosa? Per dirsi niente ma per dirsi tutto, perché oggi insieme e unendoci possiamo veramente, e dobbiamo farlo, cambiare Campobello di Mazzara. Grazie. Grazie. Grazie.